se vi chiedessero quanto dura un anno voi direste probabilmente 365 giorni i più intelligenti di voi però diranno 365 giorni e 6 ore al che qualcuno potrebbe dire ma queste 6 ore che fine fanno leggenda narra questa leggenda si chiama ovviamente scienza che queste 6 ore ogni 4 anni ne formano ovviamente 24 che vanno a formare un giorno extra un giorno speciale un giorno che si ripete solo ogni 4 anni e questo è il giorno il mese più corto aggiunge il suo 29esimo giorno e in esso si fa la storia benvenuti ragazzi in questo 39esimo episodio del futuro al alternativo del mondo il 23esimo e ultimo di questa guerra il 23esimo e ultimo anzi il 39esimo e ultimo di questa serie se non avete visto lo scorso episodio andatelo a vedere è fondamentale affinché possiate capire al meglio questo prima di iniziare con la storia voglio rendere giustizia quella che proprio merita la giustizia ovvero ringraziare pricks e dark girashi l'ho fatto mille volte però lo voglio fare di nuovo ma voglio sottolineare una cosa molto importante ringrazio infatti pricks per aver fatto tutte 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 e dico tutte le copertine di questa serie senza mai lasciarne una da parte è capitato magari qualche video uscita un orario un po più strano ma quello può capitare ma comunque sia tutti gli episodi sono usciti e sono stati coordinati alla perfezione copertine screen ovvero cambiamenti della mappa che mi hanno aiutato a capire cosa dover modificare in video un lavoro mostruoso alle spalle e ringrazio dark girashi che ha fatto molto spesso nottate con nottate intendo anche oltre l'una di notte per finire di scrivere i testi testi scritti alla perfezione tant'è che io non vi dico leggo direttamente le parole come sono scritte ma faccio piccolissime modifiche al massimo cioè il testo è scritto in modo perfetto quindi questa è una serie di tre persone io sono quello che la pubblica ma la storia è di tre persone sì è un lavorone e voglio rendere giustizia a chi ci ha lavorato non dietro le quinte perché ve li nomino sempre ma è giusto dare i meriti a tutti quindi sappiate che questo capolavoro è stato impacchettato da dei maestri molto molto bravi e che questa serie la più lunga del canale resterà nella storia per sempre ma adesso iniziamo con gli eventi sono passate 48 ore circa dalla proclamazione della nuova russia giorno in cui tutto il mondo spera in un accordo oppure meglio dire un armistizio cos'è un armistizio è una cessazione provvisoria delle ostilità concordata dai belligeranti attraverso i comandanti supremi di solito in attesa o la della definizione di una trattativa di pace o della rottura di esso ed è proprio questa pace in cui ovviamente tutti i soldati in guerra stanno sperando ma come può esserci una pace adesso nessuna delle due parti è disposta a mollare e lo dimostreranno ovvio se lo dimostreranno quindi potete già escludere il finale dove tutti sono amici si vogliono bene e la guerra è solo un sogno ma la prima ad agire non è la russia non sono i gusa peraltro facciamola adesso per comodità io sposto la capitale dei gusa a berlino scusate da quando berlino è blu dovrebbe essere new city vabbè comunque spostiamo la capitale qua perché sicuramente ci tornerà utile in un modo nell'altro ci tornerà utile e mio malgrado torniamo a nuccare berlino comunque la capitale degli stati uniti non è qui resta a washington è soltanto una questione di comodità dicevo non sono i gusa non è la russia è la svezia che oggi apre le ostilità la situazione in scandinavia è ferma da fine gennaio ricordo che siamo a maggio a causa di una forte presenza russa sul confine tuttavia la svezia non è rimasta a guardare e man mano ha continuato a danneggiare con piccole offensive l'esercito russo al confine che inaspettatamente cede e cade solo il 22 di maggio la svezia infatti attaccando dalla città di kiruna chiamata così in quanto abitata da una forte presenza russa riesce a farsi strada lungo il mare del nord riesce a farsi quindi strada lungo il mare del nord ricatturando le città di tronzo alta vats e ucciovski e ora vi mostro appunto quali sono ovviamente queste qua tronzo alta vats e ucciovski eccole qua gran parte dell'esercito russo viene richiamato dalla scandinavia verso zone più vicine della russia ok che sono 60 milioni di truppe perché ormai tra morti e disertori siamo rimasti anche forse anche meno di 60 però bisogna giocarsele bene altrimenti la guerra è persa da questa situazione però non trarranno profitto soltanto gli svedesi ma anche qualcuno un po più a sud diciamo così proprio loro i partigiani finlandesi che per tutto questo tempo sono riusciti a mantenere il loro confine estremamente una rapida rete di comunicazione tra governo svedese e partigiani ormai presidiati ad helsinki informa questi ultimi della ritirata russa dalla zona ne consegue l'ovvia rivolta chiamata la chiamata di aura ovvero la personificazione della finlandia vi starete chiedendo il perché beh diciamo che oltre a questi territori ne insorgono degli altri e questi altri territori sono quattro ovvero le seguenti città ovvero aspettate che le devo trovare io prima questa dal nome che non si capisce questa dal nome che non si capisce e queste due di cui quella più alta si chiama appunto cumo poi abbiamo cuopio poi abbiamo savollimma e questa senza nome che poi non è senza nome in realtà si chiama comunque riesca gran parte quindi del sud ovvero della zona meno ghiacciata della finlandia è stata recuperata ed espropriata dalle mani russe ma ovviamente kalimov non è il tipo a cui spaventano queste piccole avanzate e questo idc e patto di shanghai lo sanno benissimo perciò decidono di fare una seconda conferenza la prima sera tenuta a roma per decidere come proseguire questa guerra perché sì la russia è pressoché da sola ma non bisogna dare per scontato nulla il 25 maggio una nuova riunione questa volta si farà a tokyo capitale del giappone eccoci qua qui nella megalopoli più famosa al mondo attualmente si decide che rimandare un attacco della russia porterebbe probabilmente a una sconfitta perciò viene organizzata l'operazione iperborea la più grande operazione anfibbia mai vista sulla faccia della terra ma con un solo scopo far crollare la russia prima che la russia diventi forte e prima che sia troppo tardi logicamente ciò non è possibile con la presenza di altri stati oltre la russia e pensateci andiamo un attimo nel nostro scacchiere chi sta combattendo ancora insieme alla russia se non consideriamo la piccola moldavia che c'è qua no sto scherzando proprio la piccola moldavia che c'è qua e voi direte ma come la piccola moldavia crea tutti sti problemi perché sì lasciamo stare l'america latina infatti questa zona non la dobbiamo considerare perché comunque sia sono cile argentina abbastanza isolati abbiamo la moldavia di cui preoccuparci è il quarto stato più forte dell'asio su quattro e fino a qua ci siamo però diciamo che qualcosa non va infatti la regione storica si chiama moldavia in realtà questo stato è abitato da rumeni l'attuale moldavia come sappiamo con capitale chicinau si trova più a est ma trascurando questo dettaglio i partigiani democratici della moldavia ricordiamo essere l'altra fazione che è in sorta inizia e continua ad assediare circondando la capitale del fantoccio russo ovvero botogiani che il 27 maggio cade o meglio l'assalto continua comunque tuttavia la russia né lei né l'idc supporteranno le due parti cioè le due parti non sono sostenute né dalla russia qui né dall'idc con i suoi vari con i suoi vari alleati quindi si genera uno stallo ciò convince sempre di più l'idc di quanto la russia sia potente e che bisogna attaccarla nell'immediato possiamo dire che hanno trovato un nuovo aiutante nell'impresa passano meno di 24 ore quando ai quartieri generali dell'idc giunge una mail un po' particolare il mittente è boria il tecnocratico che ha fondato la nuova russia eccola qui ma cosa c'è scritto in questa mail beh lui ovvero boria ha intenzione di attaccare la russia da parte un russo che vuole attaccare la russia nella zona del caucaso per poi privare quindi la russia accelerazionista delle sue risorse naturali ma in cambio pretende che i paesi dell'idc e il patto di shanghai riconoscano il suo stato bene potreste dire e quindi bene vi ricordo sempre che stiamo parlando di un uomo folle che sta attaccando la russia con poche forze chissà se è più o meno folle di kalimov paradossalmente riconoscerli potrebbe portare a una nuova russia riunita fortissima e letale magari potrebbero anche tradire l'idc ma comunque non sono pensieri che riguardano i nostri amici perché infatti le due alleanze consultate dopo una breve consultazione anche tra di loro danno l'ok e riconoscono ufficialmente la nuova repubblica russa alla notizia boria ha ottenuto ciò che voleva quindi può ordinare al suo esercito di attaccare verso il mar nero per tagliare in due la russia soldati che non combatteranno più di tanto contro la nuova russia di boria e privati dei suoi soldati la russia di kalimov non ha modo e motivo in cui fermarli è una piccola ma interessante striscia di territori cade sotto il gioco del nuovo paese l'ultima città a essere in dubbio o meglio a decidere se cadere o no è la città di anapa questa qui che ho appena segnato ma cadrà quasi senza opposizione da parte della nuova russia iniziata questa operazione senza nome i gusa decidono di fare di testa loro e di intervenire in polonia e questo è anche il motivo per cui ho dato agli stati uniti il territorio a caso qui per occupare meglio la polonia cosa succede sempre più truppe giungono da tutti i paesi dalla parte dell'idc e la russia nonostante i vitruviani non riesce a respingere questi ultimi con la situazione precedente i gusa riescono a distruggere le linee difensive russe avanzando prepotentemente a nord parliamo di un'avanzata abbastanza pesante che riesce ad occupare no non esageriamo riesce ad occupare sì in realtà sì tutti i territori del nord isolando danzica una città sotto e tutto kaliningrad a nord quindi questi territori stanno ancora stabilmente in mano russa più questo piccolo lembo di terra che potrebbe essere importante gli americani arrivano a pochi chilometri da kaliningrado come diciamo sempre città chiave del dominio russo su tutta la zona questa città sarà dunque luogo di una sanguinosa battaglia quasi al pari di quella di danzica ma non è tutto perché ricordiamo una guerra è mondiale anche perché si combatte nel mondo quindi spostiamoci nuovamente sul fronte cinese perché qualcuno è anche intenzionato oltre gusa a fare un attacco a sorpresa venuta a conoscenza infatti dell'attacco americano la cina inizia un battibecco politico con i gusa data la mossa non dichiarata ma spoiler non andrà da nessuna parte diciamo non si creeranno screzzi tra le due alleanze però la cina riuscirà a ottenere il permesso di attaccare la mongolia regione fortemente difesa dalla russia ma sul punto di essere circondata e così è l'idc approva la mossa il primo giugno la cina sfonda completamente le difese russe riuscendo esatto a chiudere l'accerchiamento sì la zona è stata completamente accerchiata più di 300.000 truppe russe sono rimaste intrappolate in procinto di esaurire i rifornimenti dentro la mongolia con altri territori che cadranno con più facilità riducendo così la situazione a questa zona qua esattamente la mongolia per l'appunto e che dire diciamo anche che in mongolia il clima non è che sia proprio mediterraneo come il nostro non se la passano proprio bene proprio per questo la cina non avanza oltre risparmiare risorse e aspettare che i russi si scannino da soli ma proprio quando il focus della guerra sembra sia spostato in asia dell'europa giunge una notizia che nessuno si aspettava sì ok che questa guerra mondiale è appannaggio dell'idc per ora ma non è detto che la russia non abbia ancora assi nella manica a calini grado ha vinto la russia i vitruviani ancora presenti sul campo di battaglia si sono comunque dimostrati validi anzi validissimi molto più validi di quanto aspettavate in soli cinque giorni i gusa perdono 50.000 soldati più di 200 carri armati e numerosissimi veicoli e veicoli in generale nessuno degli accheraggi riusciti sui modelli finlandesi e dell'alaska sembra funzionare e per evitare di perdere tutti questi territori i gusa iniziano a trincerarsi sul confine per non perdere le posizioni importantissime guadagnate l'attacco dimostra che ancora la russia non è pronta per subire attacchi random però riceve un'altra notizia però per una situazione favorevole per la russia ricordiamo ce ne sono 828 sfavorevoli la città giunge dalla città sul dnipro per eccellenza chi è attuale capitale del no della russia di kivan perché non c'entra niente ops credo di aver fatto un danno aspettate che sistemo lol ok credo che questo potrebbe portare sfortuna a qualcuno se non altro la russia possiamo dire che è caduta adesso cioè possiamo chiudere il video e dire ok la russia è caduta diciamo credo di aver restituito tutti i territori spero di non averne dimenticati ma è stato divertente vedere la russia collassare su se stesse in un modo così goffo commentate con collasso se siete arrivati fino a qua oppure se avete una carta più alta commentate con la carta che avete perché collasso probabilmente non riuscirete a vincere neanche a mazzetto parentesi spezza tensione a parte la notizia giunge da kiev attuale capitale dell'ucraina i vitruviani presenti nella zona più di 500 sono stati hackerati con successo ma non hackerati e distrutti come vi aspettereste perché a kiev viene intanto proclamata la terza repubblica ucraina esatto che sarà intanto vabbè segniamola come democrazia diretta tuttavia i vitruviani non attaccano l'esercito russo riprogrammati come pensavate ma la popolazione russa della città delle circostanze venuta ad abitare nella zona per le politiche di russificazione volute da kalimov i partigiani ucraini non la chiamano offensiva ma vendetta ma per cosa per un qualcosa che non vi abbiamo mai raccontato e non lo faremo neanche oggi saputa la notizia kalimov richiede un'immediata offensiva su tutti i fronti ma come potrete vedere benissimo tra qualche secondo quali fronti considerando che la russia sta combattendo letteralmente ovunque con la svezia qua partigiani finlandesi che sono un po qui un po qua sta combattendo con l'idc qua sotto sta combattendo contro la cina insomma i fronti sono un bel po svezia cina giappone brasile polonia voglia l'ordine di attacco infatti viene dato riferito a tutti i confini ma l'esito non è quello sperato in brasile i vitruviani che non sono più controllati da kalimov fanno di testa loro e non proseguono fine in cina i soldati si rifiutano a combattere dato il gigantesco circondamento e accerchiamento causato dalla pessima scelta di kalimov di non evacuare la mongolia solo in polonia i soldati attaccano con forza ma nonostante l'attacco feroce contro i possedimenti dei guse dell'idc in generale riusciranno soltanto a catturare due città mragovo e ginezno ovvero ginezno e mragovo diciamo danneggiando un po la linea di sostentamento dell'idc ma neanche troppo risultato decisamente sotto le aspettative kalimov ordinerà tutti i soldati di mettersi ora in posizione difensiva tutto ciò solo per evitare di non venire distituito e cercare ancora qualche consenso o meglio questo è ciò che gli storici penseranno durante lo studio di questa parte di storia perché come abbiamo già detto nell'episodio dietro le quinte numero 2 che è uscito qualche settimana fa vi consiglio di andarla a recuperare la storia di kalimov quest'uomo è davvero complesso non si saprà mai se questa mostra è stata fatta con un piano dietro oppuramente per evitare di essere destituito ma di certo tutti non sono pronti cioè tutti sono pronti non sono pronti a guardare ma ad agire infatti dalla notizia dell'ordine di kalimov la siberia è la prima a rompere gli indugi e far qualcosa questa è appunto la siberia finora questo è il momento di agire non avendo abbastanza risorse per attaccare verso l'ascia centrale o addirittura in europa la siberia decide di combattere nel posto in cui più si trova a suo agio l'estremo oriente russo territori che più gli competono senza incontrare la benché minima resistenza ovviamente che ve lo dico a fare in territori che conoscono meglio di chiunque altro l'attacco è un successo e la situazione finale vede la russia essere ampiamente sconfitta con altri territori che vengono guadagnati da parte della siberia appunto a svantaggio dello stato di kalimov nell'avanzata l'ultima città ad arrendersi è una città che avevo prima assegnato e poi tolto la città di haikal che cade sotto dominio siberiano presa questa città i siberiani si organizzeranno sul confine per inviare di nascosto un diplomatico in cina per diciamo ragioni politiche comunque sì questo episodio durerà un botto e sono felice di ciò per chi lo scorso episodio aveva pensato che i siberiani non ci sarebbero cascati avete indovinato a cosa alludo alludo il fatto che la russia aveva proposto alla siberia di starsi buona con delle promesse a fine guerra ma la siberia non c'è cascata kalimov informato in breve tempo della rapidissima avanzata in siberia rimane impassibile nessuna reazione né di attacchi né di nulla ma non per scelta sua proprio perché non è più in grado è al limite dei soldati strano ma vero i vitruviani maggiore forza offensiva sono terminati e anche un bombardamento per adesso è fuori opzione la siberia viene lasciata illesa almeno per ora perché i vitruviani ormai soli e senza supporto di kalimov decidono di lanciarsi in un attacco potremmo dire suicida chi lo sa la riconquista di una zona critica no non siberiano ovviamente come la città di namu che vi ricordo essere questa qui un attacco però è un massacro i vitruviani russi vengono distrutti uno dopo l'altro da parte dei gusa e anche grazie ai vitruviani hackerati dalla parte dell'idc i modelli russi arretrano verso nord ma i gusa ne approfittano e adesso si che attaccano rispostiamo la capitale a washington dove può tornarci sicuramente più comodo sarà una capitale itinerante oggi quella dei gusa riusciranno a recuperare due città molto importanti come fortland e delin ricongiungendo i due territori macro territori che si erano creati dividendo a sua volta i territori russi kalimov verrà a sapere di questa sconfitta solo tra un mese quando ormai sarà impossibile salvare i vitruviani ormai morti morti o distrutti in alaska e comunque in canada un po come una situazione che forse avrete già immaginato la mongolia si ricordiamo che a 11 giorni dall'accerchiamento qua può scoppiare il caos e infatti così è dall'esterno non aiutano aiuti essenziali come il cibo che anche mongolia scarseggia e come si fa a nutrire 300.000 soldati diciamo che inizia a scoppiare il caos tra le truppe già il 9 giugno e arrivano ad ammazzarsi tra di loro pur di mangiare qualcosa in più tra parte di cannibalismo e di rubare provviste la situazione davvero oscena molto cruda ma ve l'ho voluta comunque raccontare due giorni dopo il 12 giugno il comandante russo di maggior rango rimasto in mongolia firmerà con la cina un trattato di resa consegnando ovviamente la regione in mano alla cina in cambio di cosa beh diciamo la vita vi può bastare come risposta credo proprio di sì più di 250.000 soldati vengono quindi tra virgolette salvati messi però a lottare contro kalimov che è stata proprio la causa della loro quasi morte diciamo dopo essere stati nutriti riscaldati e con un posto caldo adesso sì hanno voglia di combattere kalimov comincia a temere seriamente che solo da solo non possa lui tenere unita la russia o meglio può farlo ma poi tutto dipende da lui e ciò può essere un grande svantaggio dal 13 al 16 giugno si ripete qualcosa che è già successo nella seconda guerra mondiale però all'inizio sarà chiamata infatti la silenziosa attenzione perché nessuno nessuno muoverà azioni militari tranne in russia e qualche bombardamento in polonia ma di non troppa importanza nessuno si muove e quindi giunto il momento del trattato di pace volevate che arrivava il trattato di pace no no diciamo che nessuno era già d'accordo a fare questo ma la nuova russia ci mette i mezzi ovvero guerra fratricida e vabbè ovviamente la nuova russia circondata solo dal kazakhistan che è leader del patto dei neutrali e territori russi a nord e sud quindi immaginavate toccassi proprio a loro più passa il tempo più soldati iniziano a disertare dalla parte di kalimov nella maggior parte dei casi si uniscono al nuovo stato in breve sono stufi della guerra e boria morozov propone una risoluzione rapida ed è quello che sarà il 16 giugno verso sera verrà lanciato un grandissimo attacco a sud nel caucaso e la nuova russia alla meglio in modo schiacciante diciamo che la situazione sarà leggermente così avete presente queste tre province qua cadono tutte avete presente tutte queste province qua ecco cadono anche senza fare troppi complimenti la situazione è quindi un po particolare l'ultima città a cadere non so se l'ho già segnata o no la devo trovare perché è importante aspettate è piccolina e quadrata forse ho esagerato no non credo c'è realtà poco poco esagerato quindi torniamo indietro 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 perché forse boria si è fatto un po prendere la mano e ha conquistato un po troppe città diciamo che la situazione a sud è questa a nord poi è molto più agguerrita con i territori che arrivano esattamente per non fare confusione fino alla città di batuni questi sì che saranno presi tutti come territori dicevo l'ultima città a cadere è proprio grosin in cecenia ma senza più ceceni che ricordo sono stati sterminati cade il 17 giugno con quella con la caduta di questa città diciamo potremmo dire inutile o utile chi lo sa inizia lentamente la parabola della russia sempre più uomini smetteranno di combattere a causa delle situazioni sempre più sfavorevole da 60 milioni di truppe di inizio episodio se ne sono rimaste già 25 e assai ma non solo qui non solo per questo fronte un giorno dopo il 18 perché si combatte in tutto il mondo inizia un'operazione anche in siberia quasi indisturbata infatti potrà provare con successo una nuova offensiva giungendo a est alla sua vecchia capitale ovvero yakusk che si trova esattamente qua o qua sotto qua sotto eccola qua diciamo un territorio a nord per poter attaccare yakusk appunto stavolta però kalimov ha inviato qualche battaglione sul posto e qualche vitruviano fatto così alla bene meglio ma nessun risultato sembra funzionare soldati demotivati e male equipaggiati vitruviani come detto mal costruiti e quindi nel concreto non cambia nulla alla siberia che continua a programmare un'offensiva a sud per riunirsi con il suo alleato cinese questa è appunto la situazione nel mentre però è accaduto un evento molto importante che cambierà le sorti di un intero fronte sì è giunto quel momento il momento di andare per un'ultima volta in moldavia la situazione si sblocca dopo 20 giorni di bombardamenti da entrambe le parti i moldavi democratici ricordiamo essere quelli in un colore più dorato riescono a sconfiggere le truppe pro kalimov conquistando la città e ponendo fine al vassallaggio russo avete capito bene adesso l'asio è rimasta con tre stati aspetta questa è la moldavia sbagliata wait diciamo devo fare un piccolo cambiamento tornare indietro dare la capitale qua democrazia diretta e così sia devo trovare però lo stato con l'altra bandiera attenzione non facciamo danni qua devo andare quindi nella loro capitale e dargli la giusta bandiera comunque sarà questa non capisco perché non me la sta facendo cambiare ma comunque sia vabbè facciamo che un attimino sistemiamo la questione moldova eccola qua finalmente l'ho trovata moldova che quindi o moldavia chiamatela come volete riuscirà a tornare le sue dimensioni standard e adesso sì che la russia è rimasta letteralmente da sola nel continente europeo diciamo la moldavia comunque si è difesa abbastanza ha resistito agli attacchi dei democratici ma alla fine è caduta ormai convinto che la sua russia non sia da cercare in territori esterni ordina la ritirata dalle terre rimaste non controllate i ribelli li hanno quindi occupate senza resistenza e senza morti però questa moldavia come detto non è riferita alla moldavia che conosciamo i giorni nostri ma alla vecchia moldavia che aveva territori anche in questa zona della romania diciamo che la zona è occupata principalmente da rumeni anzi esclusivamente da ruveni per dire quindi i partigiani democratici chiedono alla romania di venire reintegrati nello stato ovviamente venendo riaccontentati subito ecco perché ho fatto un po di casino con la moldavia non perché sono scarso io ma perché sono territori rumeni e rumeni torneranno ad essere questo è il momento la russia è ufficialmente in tutta l'eurasia nessuno sembra più intenzionato ad aiutarla ma l'esercito di 25 milioni è ancora sul campo e non si può vincere in quel modo rimane solo un'opzione e avete già capito a cosa mi sto riferendo avete fatto caso che siamo stati sempre molto molto cauti con i gradi dell'esercito questo è perché il 25 giugno 2041 una notizia viene data nei paesi facenti parte di dc e patto di shanghai tutti devono attivare il grado 4 di reclutamento tutti assieme per sconfiggere la russia non è più stati contro stati o idc contro asio e tutti contro la russia assieme a ciò viene organizzata la sotto operazione deadbyte un nuovo attacco informatico programmato da diverso tempo con il quale la russia riesce a perdere il sistema satellitare e la sua rete internet adesso è isolata dal resto del mondo sistema missilistico rete internet sistema satellitare tutti fuori gioco kalimov non riesce più a comunicare al proprio esercito in maniera efficace ed è questo quello che si voleva ma la genialità delle due alleanze combinate assieme non si ferma a questo punto passa un singolo giorno e l'operazione precedente si rivela un successo sotto tutti gli aspetti perciò si prosegue con la seconda sotto operazione terminator il 26 giugno vengono inviati nuovi modelli di droni ipersonici soprattutto i territori occupati dalla russia in turchia in finlandia in alaska ma questi droni personici sono ipersonici e anche belli cazzuti perché sono tutti muniti di una potente arma basata sulle esplosioni elettromagnetiche lo scopo dei droni è quello di autoschiantarsi a uso kamikaze contro punti focali della resistenza russa per fungere da emp cos'è emp o emp per chi se lo stesse domandando per i più curiosi di voi significa electric magnetic pulse serve quindi a danneggiare e disturbare apparecchiature tecnologiche con forti impulsi elettromagnetici ma queste esplosioni si limitano solo alla disattivazione dei vitruviani esatto è stata trovata un'altra falla nell'uomo perfetto che kalimov aveva ideato o nell'intelligenza artificiale fate voi un quantitativo numero assurdo di super uomini viene disattivato in particolar modo nel nord america ovvero qui e in tre giorni i gusa riusciranno a fare quello che ormai avrete capito pennellino alla mano perché stavolta me lo posso permettere con i vitruviani fuorigioco e nessun'altra truppa presente sul territorio senza neanche un morto se non qualcuno che gli è venuto un infarto durante gli attacchi e ci ha schiattato in tre giorni i gusa si riprendono tutto chi il nostro diciamo così in meno di 24 ore però nessuno si ferma il 27 giugno c'è un nuovo giorno chiave della guerra con il successo delle due operazioni se ne pensano altre due sotto operazioni inizialmente predisposte per iniziare una successiva all'altra ormai senza più vantaggio dei vitruviani la russia è una mera nazione come tutte le altre e il numero dell'esercito da 25 forse a 23 lo possiamo scendere con altre diserzioni proprio per questo bisogna che la guerra termini il prima possibile terza operazione gloryborn in europa 25 milioni di truppe circa contro 40 milioni di truppe che vengono schierate sul fronte polacco statunitensi inglesi polacchi rumeni serbi belgi spagnoli portoghesi etiopi partigiani di ogni nazionalità persino messicani e asiatici tutti inviati come supporto principalmente dalla cina e dal giappone tutti riuniti contro la russia e ora sì che possiamo mettere ai gusa una capitale qui perché sarà rappresentata di tutte le forze idc tutti uniti contro la russia alle 9 di mattina l'operazione gloryborn a inizio in meno di quattro ore cadono città fondamentali cadono sia varsavia che danzica tutte in mano all'idc e a sud si sfonda all'inverosimile vengono occupati infatti alcuni territori a sud di importanza vitale e a nord viene fatta un'altra bestiale avanzata che si ferma qui alle porte di una città che conosciamo bene col nome di varsavia varsavia e quindi alle porte pronta ad essere presa e conquistata di nuovo da parte dell'idc che in passato era riuscita a occuparla varsavia quindi cade dopo un altro attacco e ora sì che diventa ufficialmente idc spostiamo qua gli grandi stati uniti d'america ci possono tornare sicuramente più comodi queste città non so che cosa ci fanno lì ma le andiamo a togliere forse le ho messe per sbaglio non ricordo in realtà non ho le ho messe per sbaglio questa è la situazione danzica è caduta e tutto il resto della polonia che ho menzionato è caduto pure alla notizia del contrattacco non solo l'idc si muove ma qualcosa di molto più grande se infatti i nostri storici la chiameranno il 27 giugno dei popoli c'è un motivo perché in russia un'altra situazione degenera chi è lo stato che più ha sofferto in questa guerra la turchia e in anatolia ciò che rimane dei partigiani insorge ancora una volta contro la russia governo neutrale perché un governo ancora non c'è in sempre più città ormai la russia è incapace di reagire data la mancanza di comunicazione per un esercito così grande sconfitta dopo sconfitta altri partigiani insorgono oltre a quelli turchi esatto anche in carelia ce ne sono infatti in una città importante che adesso devo andare a recuperare come petro petro zavosk diversi gruppi di partigiani insorgono in maniera molto violenta con attentati esplosivi contro l'esercito russo in ritirata dalla scandinavia grazie a un'azione rapida per evitare una reazione russa i ribelli qui riescono ad assicurarsi il controllo di due città molto importanti stiamo parlando di mikogengenghi e segne華nghi oppure per gli amici sejeska e muiezersky queste due qua questo gruppo etnico solo loro gli azzeri ma come gli azzeri ma da dove spuntano gli azzeri qua ma infatti non sono qua sono qua no gli azzeri non possono esserci sono stati sterminati nell'episodio 22 l'arma segreta l'episodio 6 di questa guerra mondiale e calmiamoci un po tutti io non ho detto che ci sono azzeri qua ho solo detto che ci sono azzeri gli azzeri sono da un'altra parte gli azzeri vengono dall'iran diciamo che anche oggi nella nostra storia ce una fortissima minoranza a zera e diciamo che l'iran non piaceva avere un vicino così pericoloso come la russia e durante l'esodo ne ha ospitati tanti adesso però l'azerbaijan può tornare all'attacco quindi li segneremo qua proprio come azerbaijan infatti li andiamo a recuperare dal nostro archivio andiamo a recuperare così e gli andiamo a dare tutti i territori che grazie a questa offensiva sono stati presi tutti fino a baku dove la situazione è piuttosto critica per i russi essendo stati mega isolati quindi perché non armare gli azzeri questo è ciò che è stato fatto da parte dell'iran la russia ha di nuovo dimostrato di non saper gestire il suo esercito e per di più è sempre più instabile ma tutto ciò ricordiamo è solo in europa perché la quarta sottoperazione avviene proprio in asia l'operazione mad dragon che prende nome nell'estremo oriente più precisamente in siberia e nella camcaccia che ormai non esiste più da parecchio tempo i primi ad agire sono giappone taiwan ma anche con supporto bangladino mongolo pakistano filippino tutti per un totale di 3 milioni di uomini invadono i seguenti territori che segneremo per comodità come in giappone le curili che sono queste isolette qua che sono state prese più riuscendo anche a sbarcare nell'entroterra russo con 3 milioni di truppe nella città di petropavlovsk camcacci appunto nell'ex capitale della camcaccia come detto la russia viene completamente obliterata e perde accesso a un importantissimo vitale porto nella regione del pacifico ragazzi 40 minuti di video qualcosa di folle la cina però nel frattempo bombarda i confini con la russia per indebolire il suo più possibile i suoi avversari perché è arrivato qui commenti con castoro voglio vedere quanti sono arrivati a 40 minuti ciò in attesa di un momento perfetto per attaccare riducendo al minimo le perdite in un territorio così impervio come la siberia 25 26 27 no non sto dando i numeri tre giorni di giugno tre date quattro operazioni tutte riuscite al meglio ma la russia però è ancora un po troppo presente in una determinata area del mondo qui dove l'avevo tolta prima ovvero in sud america america latina sia per la presenza diretta sulle coste brasiliane nonostante i vitruviani siano stati disattivati che per la sua alleanza molto scomoda con argentina e cile comunque l'idc qua non è messa al massimo perciò a brasilia capitale appunto del brasile vengono programmate due operazioni in codice contro l'assio da compiere in breve termine la quinta sotto operazione fireland che avrà come scopo di far sbarcare 3 milioni di soldati a tal tal in cile e qual è il suo scopo ovviamente offrire luogo sotto il controllo diretto dell'alleanza per fornire supporto alla patagonia sul punto del collasso per l'altro nemico l'argentina non vengono programmate invasioni dirette lasciando il compito al brasile per la seconda sotto operazione san cost si propone uno sbarco sulle coste brasiliane per assicurarne il controllo entrambe le operazioni vengono accettate ma non effettuata per altre priorità maggiori volevate subito un capovolgimento di fronte ma ancora in europa c'è qualcosina da dire diciamo che qualcosa sta per succedere glory born non è ancora terminata in quanti 40 milioni di uomini sono ancora lì al confine con la russia e la polonia ecco diciamo così il 29 giugno dopo tre giornate di pacificazione della zona spegnimento di focolai di ribellioni bombardamento dei confini e tutto risolto l'idc dà via al secondo attacco che è un successo clamoroso infatti in meno di un giorno tutti i territori dell'ex polonia vengono riconquistati dall'idc ragazzi tutti questi territori in un giorno avete in mente di quanti sono cioè letteralmente l'intera polonia è stata recuperata da parte dell'idc cioè sembra quasi che la gli stati uniti adesso si chiamino polonia ma non è così proprio con questa vittoria rifugiati politici che erano scappati due episodi fa nell'episodio 37 a causa dell'esodo polacco iniziano a ritornare nel loro paese con la speranza che possa restare in mano alleata per sempre ma la vittoria non dà spirito solo ai polacchi apparentemente anche qualcuno più a sud è rimasto colpito diciamo che se non ho toccato la turchia finora un motivo c'è si riaccende una scintilla che con la guerra era stata spenta tutto ciò proprio perché la russia nei cuori dei turchi non è più invincibile tra i ribelli si contraddistingue nadir basaran un turco molto capace originario appunto della capitale ancara esso riunirà il popolo turco con dei discorsi motivazionali e delle azioni contro l'invasore russo dopo la guerra verrà chiamato il secondo ataturk secondo padre dei turchi capite bene che per garantirsi questo soprannome è riuscito a fare delle belle follie diciamo riesce a prendere numerosi territori numerose città tutto il sud del paese cade in mano in mano turca così come le città che ho appena assegnato ma se vi sembrano poche anche qualche altro territorio a sud fino a giungere a una situazione del genere una specie di mostro famelico cadono tutte in mano turca esatto nonostante queste insurrezioni però kalimov riesce a mantenere il controllo dello stretto del bosporo e conseguentemente di istanbul perdonatemi inizio già ad avere dislessie ma chissà per quanto riuscirà a farlo credo che questo video comunque durerà una follia di tempo vi prego guardatelo ciò che la russia riuscirà a fare a istanbul la città a cavallo tra europa e asia non succede più nell'est nel caucaso le ultime forze fedeli a kalimov presenti a baku non riescono a resistere alla nuova russia e nemmeno agli azzeri pressati da rivolte interne non sono appunto invincibili gli azzeri riescono quindi a spezzare il dominio di baku dopo una discreta resistenza russa e dopo questa sconfitta si riprendono appunto ovviamente la loro naturale capitale ma questa strategia ha effetto opposto perché i soldati di kalimov indietreggiano sperando di indebolire gli attacchi nemici ma gli azzeri sono più determinati di prima a vincere e proprio come si ho appena detto nemmeno in siberia le cose si mettono meglio l'episodio dura tanto perché un gigante deve morire la russia la siberia dopo tanti tentativi andati a vuoto è riuscita a inviare un diplomatico in cina per informarla di una cosa un attacco combinato che stavate aspettando da almeno 20 minuti diciamo la siberia lancia un attacco poderosissimo nelle città a sud riesce a occupare vari territori importantissimi così come la cina che adesso passerà ovviamente all'azione ma la cosa importante non è tanto la presa di alcune città vabbè che adesso possiamo anche andare a segnare quanto volete perché vengono conquistate la cosa particolare è una città in particolare lei ci sono riusciti finalmente si sono incontrate le due nazioni si sono incontrate proprio qua ma ehi devo dare un altro territorio alla siberia nel frattempo sì finalmente due alleati si sono ricongiunti la cina può aiutare i ribelli siberiani grazie al confine appena creatosi con viveri e armi questa è l'ennesima prova che la russia ormai è spacciata le disgrazie però non possono finire qua dopo cinque giorni di combattimento l'operazione che aveva preso il giappone come riferimento come assegnazione dei territori è ovviamente un successo il 2 luglio la resistenza russa viene letteralmente piegata ho fatto tutto di colpo ma l'ho fatto bene perché tutti i territori che avete appena visto sono stati occupati dalle forze alleate con tutta la costa del pacifico dopodiché il resto dei territori ormai spacciati perché lo possiamo dire sono spacciati vengono spartiti con facilità dalle forze alleate di siberia a nord con un attacco con ottimo successo e a sud con la cina che riuscirà a occupare le ultime zone e qua dopo tanto tempo in questa guerra si chiude un fronte la presenza militare russa nella zona è ormai solo l'isola di sakalin ma non potrà essere così per sempre verrà infatti organizzata un'invasione dell'isola ma non è il momento di narrarla infatti tornando nella nostra vecchia scandinavia perché si oggi si balla da un fronte all'altro la situazione è che la russia sta evacuando il confine con la svezia ma ormai ci sono così poche truppe che tutti lanciano il tutto per tutto la svezia in questione riesce a occupare i suoi credo ultimi territori a nord stabilizzando la situazione chi fa più danno però è la finlandia che riesce a definitivamente guadagnarsi tutti i territori addirittura arrivando a prenderli a nord fino ad arrivare qua come avete appena visto mentre i partigiani di altro più di alto rango noteranno la felicità della popolazione e decideranno di dichiarare festa nazionale il 3 luglio liberazione definitiva della finlandia ma numerose truppe sono state inviate contro i ribelli in carelia che purtroppo in un momento di gioia grandissima verranno tristemente annientati dalla russia purtroppo vi spezzo un attimo la tensione la russia è riuscita a distruggere una ribellione proprio quella più carina se ci pensate cioè proprio i poveri ribelli della carelia che non avevano fatto niente di male diciamo che questo atto però la finlandia la prenderà molto molto male inizierà a reclamare quella zona come propria questo episodio dura tanto ma capite che doveva durare tanto questo episodio è la storia del canale quindi come può non durare tanto le rivolte non finiscono qua perché ve lo dico subito perché perché il 4 luglio sarà definito da molti russi il giorno peggiore di luglio come dire faccio prima farvi un elenco di ciò che succede e anzitutto bisogna fare complimenti ai ragazzi dell'ucraina perché grazie anche all'aiuto dei vitroviani hackerati riusciranno a farsi strada in tutti i territori che occuperanno attorno alla città di Kiev adesso li segno e ve li faccio vedere tutti al volo eccoli qua probabilmente se Kalimov avesse ricevuto questa notizia non l'avrebbe presa proprio benissimo perché non è l'unico ciò che succede anche in Anatolia infatti molte città continuano a unirsi ai turchi contro i russi continuando la ribellione parliamo di città un po' più sfuse un po' più isolate ma di importanza vitale ovviamente i turchi nel frattempo sono riusciti a organizzare una sorta di governo provvisorio comunicano agli azeri l'intenzione di incontrarsi anch'essi per dividere ulteriormente la Russia ma torniamo in Polonia chiamiamola così anche se sono i gusa ovviamente per la terza volta l'idc lancia un'offensiva contro la Russia al nord del fronte con un solo obiettivo catturare Minsk o quello che ne resta considerando che è stata bombizzata nuccata come volete l'azione che ve lo dico a fare è nettamente un successo per l'idc che arriva direttamente alle porte dell'ex città bielorussa ma venendo fermati poco prima la situazione è quindi di questa sul fronte perché l'occasione sembra essersi presentata la Russia è sempre più ridotta alla sua controparte europea è sempre più limitata ai suoi confini moderni ma manca qualcosa sì se avete aspettato è perché doveva arrivare l'operazione sun cost quella delle coste del brasile è finalmente iniziata l'attacco anfibio che comprende più di 5 milioni di soldati è pronto ad attaccare le coste ma non succede nulla a parte qualche combattimento coi ribelli la Russia apparentemente sembra che non avesse portato soldati con i vitruviani e così in maniera totalmente anticlimatica e senza spargere sangue il brasile si piglia il pennellino di age e si riconquista in un attimo tutte le sue coste ora capite quanto la Russia sia spacciata torniamo un attimo qua adesso la Russia è sola sì ed è diventata un groviera non che prima non lo fosse però la situazione inizia ad essere anche divertente vedete questo episodio così dai per il brasile occuperà le città pian piano e solo tra una due settimane ma noi l'abbiamo fatta adesso così ce lo leviamo dal mezzo e ci occupiamo del fronte più caldo e proprio come la Russia è stata tolta da un pezzo di mondo un altro pezzo di mondo sta per sparire l'isola di Sakhalin finalmente i giapponesi o meglio tutte le forze di sì riusciranno a occuparla in venti ore attaccando prima il sud a Yusno Sakhalin che poi il nord con due milioni di uomini tutto è stato riportato a posto l'ultimo bastione nell'estremo oriente è caduto la Russia ora è ancora più spacciata di prima ma adesso in sud america le cose si muovono di nuovo l'attore principale è la patagonia nel mentre stiamo per raggiungere l'ora di video assurdo spettacolare sto adorando questa cosa la Cina continua a rifornire la patagonia che adesso deve deve agire infatti il governo quasi spacciato accetta l'offerta della Cina di prendere il controllo dell'esercito dello stato e grazie ai generali molto più competenti di quelli della patagonia diverse città vengono ricatturate al nord addirittura la situazione è così rosea che la città di Los Angeles viene catturata e liberata la situazione adesso è ottima cinque mesi di dominio cileno non sono stati invincibili perché il Cile si è ormai stabilito nelle coste però i Gusa hanno un'idea la notizia sciocca il mondo i Gusa intima i due stati ancora parte dell'asio a un'arresa incondizionata a meno che essi non vogliono finire nuclearizzati la notizia sciocca il mondo ma non i due governi che rispondono immediatamente picche convinti che sono convinti che si tratti di un blef dell'america anche perché ricordiamo nella vita reale l'america ha partecipato all'accordo di non proliferazione nucleare quindi non usare le bombe direttamente ma non accade ovviamente nulla per ora perché siamo tornati in bielorussia proprio qui è l'11 luglio quando da lì di sì giunge un'ultima potente e forte voce scocca l'ora l'orologio si è sintonizzato quarto attacco alla russia obiettivo bielorussia per la quarta volta di fila l'obiettivo riesce tutta la bielorussia ops tranne minsk che vabbè stata distrutta cade sotto il gioco del idc andiamo quindi a segnare la situazione presente con i territori bielorussi tutti occupati e tutti in mano ai gusa nel frattempo boria leader nella nuova russia spinge affinché l'occidente arrivi con degli aiuti ma lì di sì per adesso non può aiutarli tutto bene bene sì tutto no non è tutto bene è successo ragazzi è successo perché prima o poi doveva succedere qualcosa di pazzo cioè se non vi siete addormentati dopo 55 minuti succede qualcosa di pazzo ragazzi è successo è fottutamente successo nessuno nessuno se lo poteva aspettare santiago del cile ore 7 e 28 del mattino buenos aires 9 e 41 santiago buenos aires 12 milioni di morti in un giorno una scelta difficilissima gravi disordini all'interno dei gusa perché comunque sia a decidere di bombizzare due paesi così di botto dopo aver peraltro firmato l'accordo di non proliferazione nucleare causerà grandissimi danni ai gusa ma era l'unica soluzione possibile i due governi ovviamente sono scioccati dai 12 milioni di morti e dalla distruzione totale delle loro capitali cile e argentina si arrenderanno ufficialmente uscendo dall'asio e sì momento storico con l'uscita del cile e dell'argentina rimane soltanto la russia ma ovviamente uno stato senza alleati non è più in un'alleanza ponendo fine dopo la sua nascita tra spagna ed egitto con gli amc poi allargata poi asio alla fine dell'alleanza stessa adesso è russia contro tutti niente più asio è letteralmente finita adesso bisogna puntare definitivamente alla russia che ora sì che è molto molto vicina alla resa in tutta la russia asiatica si è appena deciso di consegnare territori al patto di shanghai per non combattere oltre ovviamente manco a dirlo se ne approfitta e i territori del nord cadono con una leggerezza assurda appunto come vi dicevo ma non è finita qua perché ho detto tutti i territori diciamo che la siberia con tutti i territori intendeva davvero tutti i territori tanto per quanto faccia scalpore questi sono territori abbastanza inutili al momento quindi la russia sì che è messa davvero di merda adesso fatemelo dire tutto e tutto ma intendo proprio tutto va deciso ci avviciniamo alla fine della serie alla fine di tutto i gusa ordinano a tutte le truppe di riunirsi sul confine bielorusso vengono attesi cinque giorni dove vengono finanziati vai piccoli attentati terroristici con i partigiani ma anche bombardamenti sul centro della russia signori il momento che aspettavate da 4 5 mesi è da 5 mesi che stasera arriva avanti ore 13 20 luglio 2041 città in questione mogilef 50 milioni di truppe avanzano man mano su un sentiero tutto raso al suolo è l'ultimo evento di oggi in 20 ore cadono vari territori dopo mogilef che non è ovviamente l'ultimo bensì il primo cade kriklaf dopo kriklaf cade un'altra città nintei no aspettate sono un po' giunto a sud dopo cade questa città poi cade l'ichil novo dopo l'ichil novo cade biasma a nord dopo biasma cade volensk dopo moleis cade klin dopo klin cade podolsk e infine l'ultima città che cade in questa guerra dal nome impronunciabile è questa mosca è stata circondata prima i missili i vitruviani la povertà la rete internet il suo stesso esercito il suo stesso polpolo kalimov ha perso tutto ma nel suo profondo no lui crede nella russia ed è per questo che kalimov decide di accettare un'offerta a kalimov viene infatti proposto di uscire e di farsi prendere era rimasto nella sua mosca per ancora un po' per cercare di sperare nel miracolo a più di un'ora allo scoccare dell'ora di questo video kalimov accetta di non far uccidere la città di mosca e i suoi 12 milioni di abitanti e si consegna alle truppe delle due alleanze nemiche come disse il sommo ciri il grande un ultimo gesto eroico per un leader pazzo che però ha voluto fare il possibile per dar lustro alla sua russia lo dico un po' in lacrime perché mi dispiace un sacco ma finisce così la storia di 15 anni di regime 2026-2041 ma anche 5 mesi di futuro alternativo del mondo 2 ottobre 2023 inizia la serie 29 febbraio 2024 la serie è finita qui signori così si conclude la serie con un attacco decisivo dei grandi stati uniti d'america che andiamo a rimettere a posto e ora voi vi domanderete così mentre io sono quasi in lacrime veramente ma com'è finita la serie? e il trattato? ragazzi c'è un motivo se la serie finisce così non è un finale aperto se sto dicendo questo è perché dovrete aspettare un po' un po' prima di poter vedere un continuo un continuo per questa incredibile serie perché non è finita qua la stagione 1 finisce qua ma tornerà più gloriosa di prima fatta meglio con più cose belle la stagione 2 la Russia è finita tutto è finito la terza guerra mondiale è finita e così si conclude la prima stagione di Afop è la prima volta che la chiamo così proprio perché per me la prima stagione si chiama futuro alternativo del mondo ragazzi sono emozionatissimo anche se probabilmente in video non si nota un grande grazie a chiunque abbia supportato questa serie e chiunque si è arrivato fin qua grazie ragazzi 3450 iscritti siete voi spero che vi guarderete questo episodio perché ci è voluto un sacco per registrarlo anche un sacco per prepararlo per scriverlo e per tutto ragazzi ovviamente non c'era altro da fare cioè le truppe ormai annientate dovunque mosca circondata presa dalla capitale significava soltanto ulteriore panico ma tutto finisce qui ora lasciamo che questo mondo magico si riposi un po' prima di tornare a darci emozioni non vi do una data non mi sento ancora di darvela ma torneremo più forti di prima grazie di nuovo a tutti continuate a supportare il canale questo video e ogni cosa come avete sempre fatto sono felice di essere il vostro youtuber spero che siate felice di essere i miei iscritti per me lo siete detto ciò è davvero tutto si chiude una serie durata 5 mesi 5 fottuti mesi ragazzi avete fatto una compagnia bestiale non riesco a trovare la forza di chiudere il video l'ultimo commento di questa serie sarà futuro alternativo del mondo così che non cada il suo nome e verrà ricordato per sempre per chi lo commenterà è un eroe un veterano di questa serie e lo ricorderò per sempre detto ciò è davvero tutto noi ci vediamo con un prossimo video e con una prossima serie grazie a tutti grazie a tutti